Il sindaco Melucci getti la spugna e riconsegni la parola agli elettori e il pensiero del consigliere regionale e comunale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, di fronte alla situazione di stand-by al comune di Taranto. La città, sottolinea, è priva della giunta da prima di Natale e ha un urgente bisogno di essere amministrata. Per Forza Italia il primo cittadino non può più contare su una maggioranza solida e coesa. In accordo con il centro-destra la richiesta è di tornare al voto. Noi crediamo che le condizioni per andare avanti non ci siano più, crediamo che Melucci abbia delapidato in un anno e mezzo un patrimonio politico ed elettorale e crediamo che sia arrivato il momento che getti la spugna non perché ci auguriamo un lungo commissariamento ma perché crediamo davvero che la città in questo anno e mezzo non è stata amministrata. C'è un tema vero e serio che va affrontato. La città deve essere rappresentata sui tavoli che contano. Abbiamo eventi importanti che sono in programma a Taranto. Oggi Taranto non è rappresentata ad alcun livello. Voglio ricordare, così dico una cosa che può sembrare banale ma per me non lo è, il primo cittadino non ha neanche fatto gli auguri di Capodanno ai suoi concittadini. Questa è una cosa che io a memoria umana non ricordo ed è una cosa che la dice lunga sullo stato di confusione in cui verse il sindaco. Grazie.